Bentornati! Allora, la domanda che ci facciamo oggi è amplificazione nella lirica, sì o no? No! Ci vediamo al prossimo video, non mancate. Allora, l'ho buttata un po' in vacca, perché so benissimo che per molti di voi, direi la maggior parte di voi, forse quasi la totalità, il video di oggi potrebbe veramente chiudersi, come ho fatto io, in maniera un po' sciocca. Allora, c'è una questione di cui non c'è nulla da discutere, non si fa e basta. Di primo acchito, anche a me forse l'idea di amplificare l'opera non mi fa impazzire, tuttavia io sono un uomo del dubbio e non mi piace partire da idee preconcette, ecco perché ho deciso di riflettere insieme a voi sulla questione di oggi. Ora, riflettiamo su una cosa, l'amplificazione esiste da circa un secolo, Per cui, la prima domanda che ci potremmo fare è, perché ci poniamo oggi la questione? I maligni diranno, è chiaro, non ci sono più le voci una volta, non ci sono più i cantanti una volta. Forse sì, forse no, ma sta di fatto che la questione affrontata in questa maniera è sicuramente riduttiva e semplicistica. Il punto è che oggi c'è comunque una tecnologia capace di amplificare in maniera fedele la voce, senza rumori di sottofondo, runzi, eccetera, eccetera. Chiunque abbia visto un musical a Broadway o Londra sa bene che i cantanti sono tutti amplificati, ma l'amplificazione è ottima e se mascherassimo i diffusori da cui esce l'amplificazione potrebbero anche farci credere che i cantanti non sono amplificati. Quindi se c'è questa tecnologia fondamentalmente perché non approfittarne? La risposta potrebbe essere perché il compositore non ha pensato così l'opera. Un'affermazione vera come definizione, ma assolutamente sbagliata nel presupposto. Perché voglio dire, siamo veramente convinti che se Puccini e Verdi avessero avuto l'amplificazione non l'avrebbero usata? Ve lo garantisco io da compositore, l'avrebbero usata e come? Perché l'avrebbero usata? Perché avrebbe risolto loro un'infinità di problemi che invece dovevano affrontare e risolvere in altra maniera. Tuttavia, anche se avessimo la certezza, tramite una salute spiritica, contattassimo i suddetti compositori e loro dicessero assolutamente mai poi mai userei l'amplificazione, possiamo porci nei confronti della stessa la medesima questione che ci poniamo nei confronti della tecnologia in generale. Detto altrimenti, quando è arrivata l'illuminazione elettrica, non è che abbiamo detto, abbiamo usato le candele fino ad oggi, che bisogno c'è di usare la luce elettrica. L'abbiamo usate come? Nelle case e nei teatri. A riprova di questo, i compositori di musical usano l'amplificazione anche quando i cantanti che cantano sono dei cantanti lirici. Perché sarebbe, credetemi, riduttivo o sbagliato pensare che un cantante lirico ha la tecnica per far risuonare la sua voce anche oltre l'orchestra. Un cantante invece, diciamo così, moderno non ce l'ha. È vero, è vero in termini di decibel, è sicuramente vero, ma la questione affrontata così vi assicuro che è fuorviante. Perché, ripeto, nei musical spesso ci sono dei cantanti che una sera cantano o defantano di opera e magari il mese prima hanno cantato un Mozart o addirittura repertori molto più pesanti e molto più impegnativi proprio per la quantità di voce che è necessaria per poterli cantare. Per cui il problema non è quello, ve lo assicuro. Per cui il problema è davvero che oggi non ci sono le grandi voci una volta può darsi sicuramente, insomma, al netto dei fenomeni che hanno attraversato la lirica negli anni d'oro. Mediamente forse può anche essere vero. Ma il problema per cui oggi si potrebbe rendere necessario l'utilizzo dell'amplificazione non ha niente a che fare con questa dinamica. In realtà quello che ha cambiato completamente il nostro modo di fruire la musica è stato il supporto meccanico, il disco, detto brutalmente. Però mettetevi nei panni di un ascoltatore degli anni 50, diciamo, 40-50 ascolta la Callas su un disco pieno di frusci, pieno di rumori con una qualità sonora decisamente bassa e nonostante questo la voce della Callas pure in quelle condizioni decisamente non ottimali fa la sua porca figura. Immaginatevi poi di andarlo a sentire dal vivo. Quindi venite da, come dire, quella testimonianza rovinata piena di frusci, la ascoltate dal vivo ed è chiaro che vi caschi la mascella. È normale, insomma. Questa cosa oggi non la possiamo più fare non perché non ci sia più la Callas ma perché non ci sono più i dischi oggi abbiamo i CD adesso non ci sono neanche più i CD ma non ha importanza abbiamo comunque la musica digitale che ci ha tremendamente viziati quindi adesso mettiamoci nei panni di un ascoltatore non degli anni 50 ma degli anni 90-2000 ha ascoltato il proprio cantante o la propria cantante preferito su CD e il CD restituisce una qualità canora e oltre a una qualità, come dire, sonora di quantità di decibel che è difficilmente replicabile dal vivo nei CD sentiamo i respiri sentiamo tutti quei dettagli che spesso e volentieri poi in teatro si perdono per questioni di distanza non penserete mica di essere a 70 metri da un cantante o di essere su un piccionaio e sentire se lui fa un sospiro del genere no, non lo sentirete forse lo sentiranno quali le prime file voi su un piccionaio anzi noi su un piccionaio non lo sentiremo e quindi diciamoci la verità quante volte abbiamo ascoltato dal vivo per la prima volta un cantante o una cantante di cui avevamo ascoltato mille incisioni su CD e siamo usciti dal teatro dicendo sì, bravo, brava però francamente mi aspettavo qualcosa in più ma per forza quello che ci aspettiamo è irrealizzabile cioè è irrealizzabile, impensabile che noi si possa avere dal vivo la stessa definizione e lo stesso volume nel rapporto con l'orchestra che c'è ascoltando un'opera incisa su CD irrealizzabile però che non ricordiamo a dei qualcuno li chiamerà sotterfugi io dico ausili tecnologici come appunto l'amplificazione allora molte volte nei teatri vedete che sul proscenio ci sono dei microfoni questa cosa fa spesso storcere il naso ai puristi perché dicono ah ecco, i cantanti sono amplificati in realtà nel 99% dei casi questi qua non sono microfoni per amplificare ma sono microfoni per registrare per progetti discografici per archivio del teatro possono questi microfoni amplificare? sì, in linea teorica sì ma sicuramente non è quello il loro scopo e volendo amplificare ci dobbiamo rivolgere a un'altra tipologia di microfono se avete visto la recensione che ho fatto della turandotte che è stata fatta in scala vi lascio alla fine il link se vi interessa ricorderete che vi ho parlato del fatto che il coro dietro la scena era amplificato palesemente anche se magari qualcuno non se ne è anche accorto ma insomma a un addetto allevori queste cose non sfuggono ora amplificare il coro dietro la scena credettimi tradisce molto molto di più la volontà dell'autore se il totem della nostra vita è la volontà dell'autore rispetto ad esempio ad amplificare un cantante protagonista perché il compositore fa cantare il coro dietro dietro le quinte per la stessa ragione per cui fa suonare in certi punti i violini con la sordina non per sentirli più piano la sordina sul violino sugli archi sì certo abbassa il volume ma serve principalmente a cambiare il timbro dello strumento più che per abbassarne il volume poi il volume è anche abbassato ma qual è un effetto non è la ragione per cui si mette la sordina e far cantare un coro dietro le scene è la stessa cosa se vuole ottenere quel suono un po' vattato un po' un po' vetroso in certi casi per cui lì sì se amplifichiamo il coro che c'è dietro la scena tradiamo veramente le intenzioni e la volontà dell'autore quello che però mi stupisce nei confronti di quelli che sono clamorosamente contrari all'amplificazione nella lirica è che mi sembra che ci siano due misure se un brano viene fatto all'interno di una rappresentazione di opera lirica o se viene fatto all'interno di un concerto nei concerti è abbastanza normale che si amplifichi tenete presente che in molti casi i concerti sono tenuti magari in luoghi che non sono esattamente deputati all'esecuzione della musica magari in certi casi sono delle arene all'aperto o neanche delle arene proprio dei posti all'aperto o dei posti al chiuso ma che non hanno l'acustica di un teatro d'opera insomma per cui in questi casi o in altri casi si fanno di fronte a foglie oceaniche insomma non è pensabile che Pavarotti cantasse ad Hyde Park davanti a 100.000 spettatori senza amplificazione non è pensabile ed era Pavarotti ok in questo caso mi sembra che nessuno sia mai sconvolto perché la voce era amplificata e ripeto e guai se non fosse stato sarebbe stato impossibile fare il concerto per cui il punto che mi pone evidenziare non è tanto se l'amplificazione sia necessaria o no sia utile o no ma più la percezione che noi abbiamo nei confronti nei confronti della cosa in situazioni come Caracalla la stagione estiva dell'opera di Roma è normale che ci sia amplificazione perché all'aperto perché comunque non è esattamente un posto con l'acustica perfetta per l'opera per cui i cantanti sono amplificati nessuno nessuno si ne sconvolge per la stagione in altri posti in Arena di Verona lo sapete che sono anni che si dibatte ma la mettiamo non la mettiamo e ancora qui i tradizionalisti diranno ma sono cent'anni che in Arena si canta senza amplificazione perché dovremmo introdurla proprio oggi come sempre è una questione di equilibrio e se la tecnologia consente alla fin fine un miglioramento dell'esperienza dello spettatore soprattutto quando questo spettatore ha pagato un biglietto sostanzioso io francamente non ci trovo niente di male semmai i problemi sono due cioè la chiarezza cioè deve essere dichiarato come dire come una sorta di escusazione non petita dichiarato guardate che i cantanti sono amplificati saranno amplificati e poi l'altro problema è l'eventuale confronto con i cantanti perché cosa succede se un cantante è amplificato e l'altro no all'interno della stessa recita oppure pensate all'interno di un recito è diverso ma dalla stessa opera un cavaradossi amplificato e uno no è chiaro che quello no alle orecchie del pubblico sembrerà che abbia la voce più piccola sembrerà meno adatto a quel ruolo lì quindi ovviamente o c'è per tutti e lo si comunica con chiarezza e con trasparenza oppure non ci deve essere per nessuno per cui in conclusione io non ho una soluzione ovviamente e non voglio convincervi di nulla vi chiedo solo di riflettere sulle considerazioni che ho fatto e di pensare se nei confronti di amplificazione non ci sia da parte vostra una sorta di preconcetto quindi chiudo il video di oggi non dando delle risposte ma facendovi fare delle domande nel frattempo ringrazio Massimiliano per la realizzazione di questo video per cui se il video vi è piaciuto lasciate un like a voi non cambia niente ma per la crescita del canale è molto importante altrettanto importante che siate iscritti ma come sempre mi interessa sapere la vostra opinione per cui scrivete nei commenti cosa ne pensate dell'amplificazione se possibile senza preconcetti ci vediamo al prossimo video non mancate